La Bohem e Simone Cristicchi sono solo alcuni degli appuntamenti che caratterizzeranno l'agosto sangiovanese. La città sarà animata per tutta l'estate da iniziative ed eventi culturali e di intrattenimento che terranno compagnia a tutte quelle persone che durante il mese più caldo dell'anno si troveranno in Val Darno. Un cartellone di appuntamenti presentato mercoledì mattina nella ex sala giunta del comune. Un cartellone per quest'agosto 2024 molto ricco di iniziative ed eventi per chi naturalmente non solo a San Giovanni ma in tutto il resto del Val Darno e oltre rimarrà a casa in questo mese di agosto. Tante iniziative come è ormai nella tradizione anche della precedente consigliatura a San Giovanni che mettono insieme in un calendario tutti gli eventi organizzati dalle associazioni che operano e lavorano nel nostro territorio. In collaborazione sicuramente in prima istanza con la Prologo ma poi anche con tante altre associazioni per esempio dalla Fondazione Beste del Convento di Monte Carlo, l'Associazione Residenti Centro Storico, alla nostra memoria inquieta, a Palomar Casa della Cultura con i Leggomanti. Tra le iniziative di punta di quest'agosto 2024 senza niente voler togliere a tutte le altre sicuramente l'opera lirica che ritorna dopo tanti anni in piazza San Giovanni Val Darno lunedì 5 agosto dalle 21 e poi a fine agosto il 26 il concerto di Christic e Amara in questo omaggio a Franco Piattiato con le canzoni mistiche. La Prologo è stata di supporto nell'organizzazione degli eventi, è molto facile comunque collaborare con il comune di San Giovanni Val Darno e si è inserita all'interno del tabellone con degli eventi il 10, il 29 e il 30 di agosto organizzati proprio dalla Prologo ma sempre con l'aiuto del comune di altre associazioni del territorio.